E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche questa mattina torna il nostro Morning with Crypto l'appuntamento dal lunedì al venerdì con le news di mercato con quello che è successo nella notte andremo a vedere due cose molto importanti riguardo il bear market che stiamo vivendo appunto e le date perché ci sono delle coincidenze molto interessanti e soprattutto andremo a vedere anche cosa sta succedendo a Ethereum perché il merge è stato confermato ed è molto vicino ma come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento e me aiuta tanto col canale se siete nuovi ricordatevi di iscrivervi col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati insomma i contenuti che faccio lo sapete sono prettamente time sensitive e ciò significa che vederli subito trova maggiore applicazione che vederli già dopo qualche ora ma non perdiamo altro tempo e partiamo partiamo con la prima news appunto quella di Ethereum perché la Ethereum foundation ha provveduto a pubblicare appunto i dettagli finali su quello che è il merge e appunto delle date anche perché fino ad oggi avevamo sempre parlato un po' di indiscrezioni di quello che era stato un po' emanato dai vari developer sugli sviluppi in realtà ora abbiamo davvero una data la data sarà appunto il 6 di settembre anche se sarà splittato in due eventi in due eventi perché sappiamo in questo momento viaggiare due catene quindi la catena principale validata in proof of work quella che attualmente è la catena diciamo ufficiale e la beacon chain che è la catena appunto che lavora in proof of stake bisogna emergiarle e per farlo appunto è stato schedulato il primo update che si chiama bell tricks che appunto è nella epoca 1 4 4 8 9 6 144 896 della beacon chain che verrà effettuato effettivamente il 6 di settembre queste sono le tempistiche tecniche per arrivare a quell'altezza insomma della catena quindi a quell'epoca e successivamente si andrà una volta arrivati a un livello di difficoltà di un certo tipo diciamo su questa beacon chain si andrà a eseguire effettivamente il merge con l'ultimo update chiamato Paris che andrà a fare effettivamente la compressione delle due chain quindi la beacon chain sarà quella che andrà effettivamente a definire la validazione quindi a portare avanti la catena principale banalmente spero di essere stato chiaro ovviamente non sono concetti molto semplici da spiegare così insomma per chi non ha magari molta padronanza sul discorso proof of stake proof of work però spero insomma di averla resa abbastanza semplice quindi l'ultimo update sarà il 10 di settembre quindi effettivamente non sarà il 6 ma il 10 e l'entrata in vigore molto interessante insomma quello che si sta andando a fare secondo me perché comunque vada o non vada fanboy o non fanboy che vi piaccia o non vi piaccia sicuramente è un evento storico per il settore per la seconda clip del settore è un evento che comunque ci ricorderemo insomma di questo tempo e quindi è importante comunque seguirlo perché ricordatevi che la capitalizzazione di mercato di ethereum è molto elevata ok quindi è importante che comunque vada tutto bene questo chiaramente qua viene detto porterà una riduzione dell'energia utilizzata del 99% insomma queste cose che sappiamo che renderà insomma ethereum sicuramente messa in un'altra luce nei confronti del consumo energetico questo invece è un tweet che aveva ripostato aveva condiviso marco di mindchart però è stato molto interessante secondo me perché è una ricerca appunto fatta da arcana capital se non sbaglio che è molto interessante perché fa un po' capire a che punto siamo in questo bear market e se stiamo seguendo effettivamente uno schema oppure no in realtà a parte il grafico un po' confuso che vedete però andate a vedere l'inizio di questa chart praticamente la linea questa qui del dicembre 2017 quindi del bear market appunto del 2017 col picco 19.666 dollari è questa linea qui quella in rosso chiaro diciamo quella invece in rosso scuro questa qui è quella di dell'attuale bull market toppato insomma a 69.000 dollari a novembre 2021 e guardate un po' l'inizio l'inizio vedete che proprio i movimenti nonostante parliamo di cifre differenti ma se guardiamo il drawdown appunto che è interessante in percentuale vedete che hanno seguito molto molto bene quello che stava andando a fare bitcoin sia nel 2017 insomma 2018 banalmente che quello che stiamo vivendo adesso siamo proprio molto molto simili come drawdown l'ultima mossa finale poi era arrivata con l'ultimo drop nella parte appunto di bear market 2017 2018 vedremo se anche qua succederà un'ulteriore correzione è chiaro che sono dati indicativi però fa diciamo un po' specie vedere proprio come il movimento sia molto simile anche nei pump vedete poi nel recupero del drawdown e recupero del drawdown con timing perfetto vedremo perché tranquillamente potrebbe anche continuare in sideways e andare poi a recuperare vedremo perché poi dopo c'è la parte di ritorno in bull market che chiaramente è stata un esplua molto interessante però diciamo che abbiamo già parlato anche in un mordi with crypto anche dell'indicatore che aveva flashato in buy che non flashava da più di un anno riguardo il mining quindi era molto interessante anche quell'indicatore lì che per il momento sta prendendo bene come segna di buy perché non siamo mai scesi sotto nel momento che ha flashato però di base secondo me sono tutte cose da tenere in considerazione e poi farsi ovviamente le proprie idee quelli che sono invece i gainers delle 24 ore sono anchor che fa un più 12 e 56 di creed un più 9 e tiri un classic un più 8 comunque tiri un classic continua un po' secondo me sull'onda di quello che è il mining cosmos un più 7 e 39 che cosmos sta facendo una bella settimana perché una delle poche che si sa settimana è positiva di un 6% zcash un più 5, cure down un più 5, toro un più 5, lido down un più 5 insomma questi più o meno i gainers tra i losers troviamo ios che fa un meno 4 corregge ma lui settimana positiva, cilliz identico un meno 2 ma con settimana molto positiva uno sed leo meno 2 e poi praticamente quasi il nulla questo perché comunque la giornata di ieri è stata una giornata tutto sommato diciamo stazionaria stazionaria siamo andati in realtà a completare un po' quella che era l'analisi che avevamo fatto ieri cioè il fatto che tutto sommato le due chiusure sia del 22 che del 23 di agosto erano due chiusure positive proprio per il fatto di aver comunque fatto delle figure di hammer ma che dovevamo riuscire a uscire o a provare a uscire da quella che è una situazione di potenziale bear flag abbiamo parlato e l'unico modo per uscirne è quello di recuperare questa zona qua che è quella che andrebbe a invalidare lo scenario di bear flag ci abbiamo provato in realtà nella giornata di ieri siamo andati sui 21.9 circa e però alla fine siamo andati nella notte a correggere ulteriormente lo vediamo nel fasce orarie dove appunto vedete ci abbiamo provato e poi siamo andati in correzione dalle 23 circa trovando un bottom tra virgolette sulle ore 2 e un leggero recupero e una lateralizzazione quindi in realtà in questo momento siamo in una fase di lateralizzazione che non ci mette al riparo da eventuali correzioni abbiamo visto in realtà se cioè la risposta qui è una signori se questa figura dovesse attivarsi ok? li potrebbero essere pronti allo scenario ok? di bear flag ok? non lo possiamo escludere non lo possiamo assolutamente escludere perché il timing c'è tutto perché la configurazione è molto telefonata quasi quanto questa rising wedge che sta proprio da manuale quindi potenzialmente se dovesse attivarsi questo target qui è veramente succulento chiamiamolo così per tutti ok? per chi è posizionato quindi attenzione a quella situazione lì ovviamente andare a recuperare questa zona qua ci mette al riparo da questo per quanto riguarda la dominance non abbiamo reazioni di voglia insomma di recuperare anzi stiamo continuando nella fase di down non abbiamo più avuto forti inflow di dominance a rialzo vediamo anche perché qua stiamo arrivando a dei livelli che sotto il 39.6 barra 39.18 andremo a fare dei low che non abbiamo mai osservato negli ultimi bull market ok? quindi è importante anche capire come si sta muovendo il mercato in ottica di 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 proprio di investimento anche nel settore al coin o nelle stable coin stesse infatti vediamo come Ethereum BTC in cui usura stia andando a recuperare abbastanza positivamente e stia andando a negare la bear flag ok? in questo caso anzi direi che proprio negata quasi e sta andando a proseguire o in un equilibrio o in una rottura e ritest degli 0.08166 proprio perché comunque la dominance scende e la trazione la ha positivamente le al coin detto questo mi fermo spero davvero che questi contenuti fossero stati di vostro interesse e di vostro redimento se così vi invito a lasciare un bel mi piace ad iscrivervi al canale col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo presto in un prossimo video ciao a tutti ragazzi grazie 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 grazie